Imbarco 5 per Palermo vai Roberto o come dicevano tutti Robiberto primo giorno del Giro di Sicilia edizione 2024 si esce da Palermo per andare verso il Parco delle Madonie faremo il circuito della Targa Florio tutto all'interno del parco quando sei rata un nuovo codice Siamo sulla strada statale 113, settentrionale Sicula, tra un po' giriamo a destra, direzione Cerda, il paese dei carciofi, dove si mangiano carciofi in tutte le salse, in tutti i modi, dove si fa la sagra del carciofo e comincia la nostra avventura scorazzando nel parco delle Madonie, questa è la strada statale dell'Etna e delle Madonie, strada statale 120, molto bella, asfalto fantastico, belle curve, molte a gomito Peccato che la giornata sia un po' uggiosa Eccoci qui, arrivati a Cerda Caffè Qui siamo sulla statale 120, il percorso della Targa Florio, la famosissima Targa Florio La nostra prossima destinazione adesso è Castellana Sicula E successivamente Petralia Sottana Si vede che è una statale un po' agricola L'asfalto non è in ottime condizioni, probabilmente attraversata anche da mezzi pesanti Il prattone verde e giallo Un po' di fuoristrada Oh che bello quel borghetto lì su Mucche, quante belle bisteccone Probabilmente in video non si vedono, sono lontane, sono piccole Oh che bel casolare di montagna, un po' abbandonato mi sembra Direi Zona di ulivi questa Chissà quanto saranno vecchi Qui siamo a Polizzi Generosa Città della cultura e della bellezza Allora c'era scritto Tipico paese dell'entroterra siciliano Con i tetti in tegole Adesso sarebbe anche ora di andare a mangiare Luna meno 20 Mi sa che andremo a mangiare a Petralia Sottana Lì in fondo dovrebbe essere Castellana Sicula Ecco percorrere questa strada non è fuoristrada Ma quasi Bella dissestata Fame, fame, fame Alla ricerca di una trattoria Zona Petralia Sottana Dopo questa curva a sinistra Si intravede Petralia 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 Dobbiamo andare noi in centro Lo stomaco brontola Un posto per magnà Un posto per magnà Bel carrettino di frutta e verdura Ci sarà un posto dove mangiare qua Il castello Marco on di rondello Oh che bello Iscriviti al canale non riusciamo a trovare un posto dove mangiare ma no l'hai trovato tu guarda trattoria da salvatore perfetto e non me ne ero accorto trattoria da salvatore sono capitato anche tu guarda caso il mondo è piccolo musica facciamo vedere un po il logo urca che bella mangiata che ci siamo fatti alla trattoria da salvatore a petraria soprana alla fine abbiamo trovato lì adesso direzione collesano quindi andiamo verso il mare strada veramente dissestata bisogna fare attenzione soprattutto dopo ogni curva è una strada agricola ogni tanto qualche rattoppo ma nulla di più la mucca ciao carolina ciao carolina qui siamo a piano battaglia che una volta era una località sciistica piccola per carità ma qui si sciava con gli impianti che adesso sono chiusi infatti ci sono tutti i paletti a bordo che sono chiusi infatti ci sono tutti i paletti a bordo per la neve perché qui nevica anche in sicilia nevica porco cane che dissesto di strada qui bisogna tenere gli occhi aperti tra un po' qui bisogna mettere la mappa off road porco cane senti signor parco delle madonie qui bisogna prendere dei provvedimenti non è possibile una strada del genere troppo dissestata è troppo pericolosa sono delle buche impressionanti che bella questa zona boschiva riparata anche se oggi non c'è tanto sole da cui essere riparati qui la strada qui l'asfalto un pochino meglio ma sempre deludente peccato 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 perché sarebbe un percorso super godevolissimo ma bisogna tenere gli occhi sgranati sull'asfalto per evitare capitomboli poi ci sono anche queste pigne si sa mai bella zona boschiva ma che bella zona maledetto asfalto che non mi fa godere per bene la strada non che andrei più veloce si intende però andrei più sciallo ecco là respira una bella ventata di smog che mi mancava qui l'asfalto è nuovo è una goduria vai giù mancano sei chilometri a Collesano e dopo di che si andrà verso il mare direzione Santo Stefano di Camastra dove alloggeremo ci rilasseremo mangeremo dormiremo il fondo dovrebbe essere Collesano cominciano a intravedere il mare che bello il mare siamo ancora in alto ma lì in fondo c'è il mare infatti adesso arriveremo a Campo Felice di Roccella sulla costa e lì seguiremo la costa quindi passeremo per Cefalù e arriveremo poi costa a costa verso Santo Stefano intanto qui il navigatore mi fa fare strade secondo me ad Muzum a caso l'importante è che siano belle la statale 113 settentrionale Sicula dopo una bella divagazione sul Parco delle Madonie direzione Santo Stefano di Camastra dove speriamo di mangiare dormire riposare e rilassarci bene quanto mi piacciono le case cantoniera sono caratteristiche poi hanno un bel colore magenta questo tratto di 113 è veramente rilassante godibile aperto arioso maroso nuovo termine coniato in questo istante arioso 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 Fai forever if you keep it tight Love the world but keep the sky on your mind Flying Get on board We're smiling On top of the world Flying Flying Five days It's going to be raining Senti the smell of the powder The powder It's going to die This is the smell This is the smell This is the smell It's the smell Quello qua perché dalla parte di là fa dove dobbiamo andare noi.